Si è conclusa la stazione marittima di Napoli la tre giorni dedicata ai capi delle delegazioni sportive provenienti da 59 dei 124 paesi che parteciperanno alla trentesima Summer Universia de Napoli 2019. Giornata anche di sorteggi per gli abbinamenti dei tornei femminili e maschili negli sport a squadre calcio, pallanuoto, pallacanestro, rugby e pallavolo. La nazionale azzurra maschile di volley è stata inserita nel girone D con Giappone, Argentina, Svizzera e Messico. Svizzera, Stati Uniti e Giappone saranno invece le avversarie dell'Italvolley femminile nel gruppo 4. Nel rugby a 7 l'Italia, che sarà presente sia nel torneo maschile che femminile, affronterà nel gruppo B i francesi, i canadesi e i giapponesi. Nel torneo femminile, girone A, le sfide saranno con Francia, Canada e Giappone. Nella pallannuto maschile l'Italia se la dovrà vedere con Ungheria, Giappone, Australia e Croazia. Le ragazze della pallannuto affronteranno invece nel girone B Stati Uniti, Russia, Australia e Cina. Per gli azzurri del calcio ci sarà il gruppo B con Messico e Ucraina. Le azzurre troveranno invece nel loro gruppo due team molto quotati, Giappone e Stati Uniti. Nel torneo maschile di basket l'Italia è stata inserita nel gruppo D con Germania, Canada e Norvegia. Nel torneo femminile, al quale non si è iscritta l'Italia, le campionesse americane sono state inserite nel gruppo C con Taipei, Slovacchia e Messico. Nel torneo.